Ciao ragazzi, anche quest'anno è arrivato il momento del calendario TransGhiaia 2024. Come potete immaginare, non possiamo dare un calendario a tutti, perché bene o male il calendario ha anche un costo vero e proprio materiale per la sua stampa. Quindi come potete fare? Allora, c'è un sorteggio gratuito, viene fatto sul canale YouTube di TransGhiaia, quindi adesso continuate a vedere il video fino alla fine. Ci sono tutti quanti i vari passaggi e buona fortuna, e basta. Mi raccomando, suggerimento rapido ma fondamentale, iscrivetevi al canale TransGhiaia per partecipare al sorteggio. Ciao!